Gelateria del Ponte Iogurteria Creperia Budineria Il top del gelato Ecco i veri maestri del gelato artigianale con tanti gusti Dal pistacchioni ai sapori di Puglia, ai classici nocciola e cioccolato Nelle stagioni più calde, deco assortimento di sorbetti alla frutta fresca Iogurteria Soddisfiamo i vostri gusti con specialità squisite Dalla frutta fresca alle confetture e per i più golosi crema al cioccolato e ai suoi derivati E ancora, budini che solo a vederli già viene l'acquolina in bocca Tra i tanti, quelli deliziosi alla frutta, alla marmellata e al cioccolato Vi prendiamo per la gola con le nostre crepe Tante varietà per conquistare i palati più esigenti Una tradizione ventennale al servizio del cliente Qualità e convenienza sono le nostre prerogative 4 sedie a Taranto Via d'Aquino 110 Via Matteotti 1 Viale Trentino 35B Via Liguria 71A